La morte della grande ballerina Carla Fracci ha colpito molti che in questa etual della danza classica hanno ammirato non solo la bravura tecnica ma anche lo stile nella sua vita. Già perché non sarà mai di troppo ricordare che anche nella nostra vita lo stile, la grazia, il ricomporre la disarmonia in armonia sono valori importanti e da portare avanti ad ogni costo. Il viaggio è dal caos all'ordine, questo ci insegnano grandi artiste come Carla Fracci che nell'armonia dei gesti danzati ci mostrava come l'essere umano può disegnare l'ordine al ritmo di musica. La danza ci ricorda dell'importanza dell'ordine, di come sia importante cercare un nesso nelle cose e di come questo vada fatto attraverso la grazia, una grazia con declinazioni diverse in un uomo e in una donna. Forse nella donna possiamo chiamarlo grazia mentre nell'uomo stile è una parola che credo sia più appropriata. Dire di un uomo che è aggraziato suona un po' strano ma avete certamente capito l'idea. Bisogna cercare bellezza nella nostra vita che è come Sant'Agostino ci insegnava la proporzione delle parti accompagnata da una certa dolcezza di colorito. Questo lo diceva in una sua epistola. Questa bellezza non è solo nell'arte ma in realtà deve essere in tutto quello che ci circonda e deve essere riflessa anche in noi attraverso la grazia e lo stile del nostro comportamento. La danza stilizza questa ricerca di armonia ma essa è valida per tutti. Duns Codo diceva e cito la bellezza non è una qualità assoluta indipendente che sia presente nel corpo bello ma risulta dall'aggregazione di tutto ciò che si unisce ad esso come la grandezza la figura il colore e dall'aggregazione di tutte le relazioni che queste proprietà intrattengono col colpo e tra di loro. Ecco questa è una citazione dalla opera di questo grande filosofo medioevale ripresa da un testo di Umberto Eco sull'arte e la bellezza nell'estetica medievale. Insomma ritorna ancora questa idea che è centrale di ordine fra le parti proporzione ed armonia un'idea che già appunto Sant'Agostino ci aveva introdotto. Portare bellezza ed armonia nella vita come i danzatori classici fanno in modo peculiare come Carla Fracci ha fatto per tutta la vita è partecipare a quel disegno divino che vede nel ritorno all'ordine naturale attraverso la grazia e lo stile un valore da difendere e da promuovere ad ogni costo. Il pensatore brasiliano Plinio Correa de Oliveira diceva che Dio affida a talune persone la missione di essere simboli. Esse hanno un portamento, un modo d'essere che corrisponde a una certa grazia accompagnato dalla capacità di esprimere sensibilmente questa grazia. Hanno un modo d'essere che rende particolarmente allettante le virtù legate alla grazia perciò sono chiamate non solo a praticarla in modo esimio ma a simboleggiarla. Siamo sicuri che in tutto questo Carla Fracci è stata certamente un esempio luminoso.